Un altro esempio per farti vedere come prelevare USDT da Crypto.com sul tuo wallet Solana. Clicca su Transfer, Withdraw e qui puoi selezionare o di prelevare in fiat e quindi direttamente euro sul tuo conto corrente o cripto. Premi Crypto. Qui abbiamo diverse opzioni. Possiamo o inviare criptovalute dentro a Crypto.com direttamente ai nostri amici. Possiamo mandare criptovalute all'exchange di Crypto.com oppure criptovalute al wallet di Crypto.com o prelevare su un external wallet che è quello che ci interessa. Clicca su External Wallet, aggiungiamo l'indirizzo del nostro wallet Solana, seleziona la cripto che ti interessa prelevare, seleziona SOL, inserisci l'indirizzo del wallet Solana e dove prendere l'indirizzo del wallet Solana? Lo puoi trovare a questo link, phantom.app. Comunque te lo lascio in descrizione. Altrimenti, se hai un Ledger Nano S o Ledger Nano X, puoi tranquillamente prendere l'indirizzo Solana dal Ledger Live. Per farlo dovrai avere l'applicazione Solana installata. Se non ce l'hai, vai su Manager, cerca Solana e installa l'applicazione premendo su Install. Una volta installata, vai su Accounts nel menu a sinistra, premi Add Account in alto a destra, seleziona Solana, premi su Continua. Il Ledger ti chiederà di aprire l'applicazione Solana, dagli conferma premendo il bottone di sinistra e il bottone di destra contemporaneamente dal Ledger. Aggiungi il tuo account premendo su Add New Account su questo pulsante e premi Add Account. L'account è stato aggiunto correttamente. Clicca su Done e ora ti basterà cercare qui Solana per vedere l'indirizzo che hai appena importato. Per visualizzare l'indirizzo ti basterà premerci sopra, cliccare su Receive, premere su Continua e questo è l'indirizzo che devi copiare cliccando questo pulsante e incollare come indirizzo Solana. Qui gli puoi dare il nome, chiamiamolo Solana e clicca su Continua. Inserisci il PIN, inserisci l'autenticazione a due fattori, seleziona l'account, clicca su Withdraw, inserisci l'importo che vuoi prelevare e una volta inserito l'importo premi su Withdraw. Controlla che i dati inseriti siano corretti, in questo caso io ho mandato 2 dollari, però ne riceverò solo uno perché pagherò 1 dollaro di commissione. La rete è Solana e questo è il mio indirizzo Solana. È tutto ok, premi su Confirm, reinserisci nuovamente il PIN, ci siamo quasi, premi su Send nel primo campo per farti inviare un PIN sul tuo cellulare, di solito è un PIN a 6 cifre, a 6 numeri, e qui inserisci nuovamente il codice dell'autenticazione a due fattori. Premi su Continua. Per ragione di sicurezza, Crypto.com non permette di prelevare su indirizzi inseriti troppo recentemente, quindi devono passare almeno 24 ore prima di effettuare un prelievo. Però, una volta che tu hai già salvato il tuo indirizzo, aspetta 24 ore e poi potrai tranquillamente prelevare le criptovalute sul tuo indirizzo. Se avete trovato valore e informazioni utili in questo video, vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati, e come al solito, se avete dubbi o domande, rimango a disposizione nei commenti. Vi auguro una buona settimana. Grazie. Grazie.